Con il suo fascino e la sua allegria, Shaila ha catturato l'attenzione di Favier e Lorenzo Quest'ultimo, però, non ha nascosto il suo interesse verso Elena A quanto pare, nella casa più spiata d'Italia c'è una ragazza che con il suo fascino e con la sua bellezza non fa altro che catturare l'attenzione di due ragazzi, si tratta di Shaila Ma cosa sarà successo nel corso degli ultimi giorni? Pronto a scoprire qualcosa in più, Alfonso invita l'inquilina a recarsi nella misteri Nella casa stai facendo perdere la testa a due maschi che sono affascinati dalla tua bellezza, esclama, mostrandole una clip Dopo aver mostrato la clip, Alfonso prova ad indagare di più sulle sue intenzioni Shaila dice di essere attratta da Lorenzo in quanto, con la sua energia, non ha potuto fare a Mendo di catturare la sua attenzione, dall'altra, invece, spiega di essere molto attratta dalla misteriosità di Favier Sono molto diversi, afferma Reputandosi una ragazza allegra e socievole, ci tiene a giustificare i suoi atteggiamenti dicendo, da donna mi piace piacere, ma, certa di non voler intraprendere nessuna relazione, aggiunge Io ho scelto prima di tutto me stessa Visto quanto accaduto nel corso della puntata precedente, il conduttore interpella Beatrice per scoprire nuovamente il suo punto di vista a riguardo L'attrice crede che Shaila sia una ragazza molto intelligente e spiega che è proprio per questo motivo se si è permessa di esprimere il suo punto di vista a riguardo Pur apprezzando il ragionamento della ballerina, l'opinionista afferma La propria libertà, in quel contesto lì, va ridimensionata, e aggiunge, tutto quello che si fa nella casa bisogna contestualizzarlo Non d'accordo con il suo punto di vista, Cesara ribatte Ognuno è libero di fare quello che vuole e tu puoi divertirti, Shaila Io gioco con chi mi permette di giocare, conclude la ballerina Sia Javier che Lorenzo ci tengono a spezzare una lancia a favore verso la loro coinquilina Pensano che lei sia sempre stata chiara e corretta nei loro confronti, e per questo non sentono di doverle rimproverare qualcosa Terminato il chiarimento, Alfonso ritorna a parlare dell'interesse che Lorenzo e Javier provano nei confronti di Shaila A quanto pare, tra i due ad essere più attratto dalla ragazza è Javier il quale, senza giri di parole, ha ammesso più volte di provare un reale interesse nei suoi confronti Pur essendo molto timido, ha deciso di regalarle una maglietta, nascondendola sotto il suo cuscino Shaila ammette di aver apprezzato molto il gesto del ragazzo, e racconta di aver indossato la maglietta in quanto affascinata dal profumo, mi piace il profumo di Javier Se Javier ha le idee ben chiare su Shaila, Lorenzo continua ad essere sempre più confuso, ma sembra non avere dubbi su Elena Elena mi ha stravolto, ha affermato, non nascondendo il suo interesse A questo punto, Alfonso manda in onda una clip per ripercorrere quanto accaduto tra i due concorrenti nel corso della settimana e per mostrare il loro bacio cinematografico Elena confessa di aver trovato in Lorenzo un ragazzo molto interessante, pronto a supportarla e a trasmetterle sicurezza e per questo si è inevitabilmente avvicinata a lui, mi piace, conclude Una cosa è certa. Nella casa più spiata d'Italia la situazione continua ad essere poco chiara Come si evolverà il rapporto tra gli inquilini? Qui a girare il rapporto tra gli inquilini? Come si èーブon di bisogno di un altro problema